benvenuti in questa guida top 7 stivali donna di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo queen elena tronchetti traforati stivaletti questi stivaletti sono fantastici sono molto comodi e hanno un design moderno la fibbia laterale e la zip laterale aggiungono un tocco di stile il plateau è abbastanza alto da offrire un po di altezza ma non troppo alto da essere scomodo sono anche molto resistenti e durano a lungo punteggio 76 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo bata stivali alti con gambale questi stivali sono fantastici sono comodi eleganti e casual allo stesso tempo il gambale traforato è un tocco di classe in più sono perfetti per l'estate sia per uscire che per stare in casa ottimo acquisto punteggio 75 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo only maker stivali classici da questi stivali sono fantastici sono ben fatti comodi e belli il pizzo è di ottima qualità e la pintura nera li rende eleganti la suola è robusta e resistente sono perfetti per le occasioni speciali ottimo acquisto punteggio 79 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare qui in elena camperos stivali texani questi stivali sono fantastici sono comodi resistenti e hanno un bellissimo design western il tacco è alto ma non troppo quindi sono perfetti per camminare tutto il giorno sono anche molto versatili quindi puoi indossarli con quasi tutti i tuoi abiti punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo queen elena camperos stivali texani questi stivali sono fantastici sono ben fatti comodi e hanno un bellissimo design il tacco western è perfetto per aggiungere un tocco di stile al mio look la zip laterale è una caratteristica pratica che mi permette di indossarli facilmente sono sicura che questi stivali mi accompagneranno per molto tempo punteggio 92 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo shima thompson lady scarpe moto questi stivali da moto shima thompson lady sono fantastici sono realizzati in pelle di qualità con un supporto alla caviglia e una suola antiscivolo la presa del cambio è comoda e sicura ottimi per la guida in moto sia in città che fuori strada punteggio 90 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica tucul stivali donna scarpe a questi stivali sono fantastici sono molto comodi e hanno un design moderno la punta è affilata e il tacco alto è perfetto per aggiungere un po di altezza sono anche molto resistenti e durano a lungo consiglio vivamente questi stivali punteggio 92 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale un po di altezza